ok ragazzi siamo arrivati al quinto episodio di questa UHC adesso il bordo si incomincerà a restringere quindi dobbiamo uscire assolutamente da questa enorme caverna perché mi sta spaventando dove ho anche trovato un ragno velenoso purtroppo però abbiamo tanto tanto oro ragazzi siamo tutti sì sì sono dietro di voi tranquilli allora innanzitutto cuacciamo un attimo no no Charlie perché se arriva il bordo rimaniamo speccicati qui di da qua siamo arrivati ok trovato ti esce tutta la spazzatura adesso no voglio la cesta ok presa 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 andiamo si da lì si sale andiamo al centro ci facciamo una base da qualche parte incantiamo prendiamo un po' di cibo e poi esatto avete il cibo adesso per salire? io sì 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 lo prego io ho recuperato 19 polli cotti da qui dove siamo? qua cioè guarda che abbiamo esplorato un sacco di questa caverna mamma mia da dove siamo arrivati ragazzi? da lì occhio che qua vedo ah sì ah sì qua c'era il canyon no di qua di qua di qua dove c'è Charlie? sono qui o qui? sì esatto hai ragione andiamo io ho sempre ragione sono una donna eh è giorno? la luce è sì è giorno per anni ora ah già è vero io non ho cibo qualcuno ce l'ha? sì sì tranquillo ti do due ti do metà dei miei polli allora dobbiamo andare a zero non li ho presi sì dobbiamo avvicinarci più che altro noi siamo a 513 meno 460 quindi aveva un po' da camminare eh quindi ci va al centro e beh verso il centro verso iniziamo a salire qui quindi se io vado di qui la X ci siamo la Z ci siamo ok ho la direzione ok perfetto alla fine di questo sì ci sarà il più teniamoci alti ragazzi sì non ci conviene almeno fare gli archi non so così eh prima di andare prima di andare mettiamoci un attimo qui dai esatto ne facciamo un po' gli archi perché no ma tutto direi di farci cioè cuocere tutto eh non vorrei che arriva la barriera no vabbè la barriera la vediamo arrivare dai nella prima loro tacche ok quanto a cavolo di qua l'ho messa poi eh adesso la smezza qui possiamo mettere io c'ho ancora un po' di ferro non si sa mai dove se servire vai metto giù questa allora diamanti li avete voi? no no allora ho 10 diamanti pade stivale o due elmi che si fa? boh non lo so bisogna vedere se è meglio il corpo a corpo o che cosa eh ma stivale ed elmi allora io punterei più sugli elmi due elmi eh forse si se avete piume selce bastoni mettete pure qui allora intanto io vi faccio no io ho lasciato tutto nessuno che dite buono chef nessuno eh bisogna puntare a qualcosa di più ah è vero smeltiamo il ferro ci facciamo l'incubile knockback knockback uno faccio? no knockback forse no knockback no voi avete le frecce? io faccio le mele che tanto sappiamo già che dobbiamo fare con quelle una mela dorata cos'era? no metano? ucciso da Ulisse? ancora una volta metano è più morire gg gg allora per il momento metano qua c'è del loro che non sta smeltando perché non ha coal io non ne ho coal eh aspetta eh mettilo di qua nella fornace in basso tieni 15 charlie 15 prendile ok ok eh passami le mele tec eh io ho già due mele d'oro eh una posso darvelo eh passami tutte le mele normali che hai ok le metto nella cesta uh Ulisse sta facendo strage le faccio tutte sì tanto acqua e lo serve eh sì tutto quello che riusciamo di mele d'oro sì ok ne ho altre tre io non mi sta piacendo quello che vedo eh vabbè che il loro team era abbastanza indebolito e anche il team rosa non è che si è messo benissimo devo speriamo solo che non arrivi nessuno qui eh charlie tech chi se la sente di più con il pvp io non è che sia tanto bravo lo sanno mi hai iscritto me la cavicchio me la cavicchio perché cioè se 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 è corpo a corpo me la cavicchio se è con con arco e frecce no ok allora facciamo due elmi e uno lo do a charlie va bene va bene ok ok allora charlie ok tieni il tuo elmo di diamante e lo puoi incantare se vuoi qua sto smeltando altro oro e smelta smelta hai fatto un cudine eh no sto preparando il ferro non so se ce la facciamo ragazzi metto l'incudine qui ci siamo ora l'altro ferro va tutto in spade in spade io ce l'ho una quindi potrei provare con questa ok io ho una spada con sharpness 2 io l'avete il lapis voi io si io c'ho un fire aspect sulla spada si tranquillo non sarebbe male eh se prendo un altro sharpness 1 lo unisco sharpness 2 faccio sharpness 3 no devi unire due sharpness 2 due sharpness 2 io ho un fire aspect 1 su una spada secondo me è ottimo allora faccio un knockback 1 gli dai fuoco mamma mia anch'io ce l'ho sharpness 2 fire aspect 1 io prendo sharp vediamo questo fire aspect 1 dai ok però inizio a farmi l'armatura io perché fire aspect 1 è rimasto però va bene ok io ho sharpness 2 knockback 1 il corpetto vediamo un po' cosa riesco a fare protection 1 protezione 1 protezione 1 protezione 1 ci sta anche questi si possono fondere volendo eh questo qua ce l'ho poi allora fate prendere un po' meno i pantaloni protezione 1 anche i pantaloni ci sta prendiamo anche i pantaloni arco power 1 e protezione ah oh bella io ho protezione 1 su tutto io sull'arco power 1 ci sta attacco qualche carbone che mi faccio un altro e power 1 dappertutto potrei rischiare no faccio un livello power 1 sull'arco e dagli che butto giù le cose e poi sull'elmo qui devo rischiare un po' di più eh protection 1 solo accidenti e vabbè allora intanto qua oro protection 1 no non ce ne è più di oro avete preso tutto? si sta tutto nella cesta vado un attimo a uccidere qualche maiale qualcosa che voglio arrivare a 4 di esperienza unisco le spade ma io perché non riesco a fare altri incantamenti con 6 livelli? ma è impossibile tec io non me la date prima è impossibile prova spada con un'altra spada ah adesso si ce l'ho fatta sharp nessuno questa fire aspect la unisco con un sharp nessuno che ci sta eh io a parte che no non ne ho una da darvi vero no vediamo se riesco a unire queste due sarebbe grandioso qua c'è del carbone ok io ho 4 livelli se volete c'è ancora qualche blocco sta arrivando la barriera dove? dove? eccola si prendiamo tutto prendiamo tutto e fuggiamo avete fatto frecce? eh no io ho 3 però ho 3 cosi riusciamo? tieni falle prendete prendete aspetta non togliermi l'incudine che devo no 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 prendete come costa 8? come costa 8? prendete tutto ragazzi non mi ricordo più la cosa della ah ecco fatto ok lo fate io ho altre 7 selci passatemi un attimo ascoltate ho altre 7 selci eh ce le ha ce le ha tech le selci le piume no le piume le piume le piume si te le metto nella cesta prendile ok si 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 oh sta arrivando eh prendi il tavolo dell'enchantment mamma mia ragazzi prendiamo danno tra poco eh io ho 30.000 frecce non per qualcosa ma io ne ho ne ho un po' ne ho 29 anzi scappiamo subito subito hai preso le mele tutto quello che si poteva prendere si 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 via via sta arrivando troppo in fretta attenti qui quando scendete si si attenzione devo mangiare la mela io prima però uccidete un po' di pig si per l'esperienza ok tech ci sei sono dietro di voi sono dietro di voi ok andiamo verso il centro dovrebbe essere ok i buchi quando lo uccidete con fire aspect vi ricordo che è dalla roba cotta si eh lo so ok i buchi eh madonna sto facendo una caduta impressionante te lo sto dicendo apposta no non per il buco perché non ho preso bene un blocco e lo stavo mancando ragazzi le mele dorate chi le ha prese? io ne ho due ne ho cinque io ne mangio una ragazzi eh per così li prendiamo poi i due a testa ce li dividiamo io non ho cibo cioè chi ha il cibo? eh io ho qualcosa io ho ho 19 polli ok venite qui che ci fermiamo un attimo passami un paio di pollicotti come sei vieni qua venite un attimo qui che ci fermiamo grazie ok abbiamo evitato la barriera ragazzi mi hai preso una caga assurda voi non capite devo fare 8 livelli assolutamente che unisco le due spade ed è la fine ah scusa scusa tieni ok ok ne abbiamo due a testa e poi l'ho già presa una adesso sono un po' messo meglio qualcuno può mettere giù la eh dammi del ferro arrivo 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 se ce l'hai ok allora in chanting table vi metto anche l'incudine io provo a fare questo bam ferro provo a farmi altro corpetto vediamo se riusciamo il ferro ve l'ho dato ragazzi dammi il protection 1 sì faccio protection 1 projectile protection fai protezione 1 adesso vediamo se riusciamo questa non mi dà no non mi dà niente ma la pietra non dà esperienza no mi costa due 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 livelli quanti ne ho uno devo fare livelli cerca in giro carbone sì basta di mi serve un altro arco ragazzi avete dei fili l'abbiamo lasciati indietro forse accidenti no siamo stati assorbiti dalla eh non lo so ragazzi oh coniglietti oh coniglietti ti direi muori coniglio le coniglietti non danno esperienza però sì quelli piccoli no a me non è andata lì c'era un'esperienza che vagava vieni qua charlie che devo fare eh vieni all'incudine che ti do le due chestplate e dovresti unirle con tre livelli dovresti rifarla perfetto allora ti do le due chestplate che ho nell'inventario cento minuti ok credo che ok ragazzi dobbiamo andare al centro sì aspettati salutiamo e poi ci vediamo per la battaglia finale no è 4 il costo non 3 ah aspetta tanto mi serve solo un coso vabbè comunque ci vediamo al prossimo episodio ciao ragazzi ciao